Ehi, non è una bella cera, che ti succede? Sai com'è? Ho sempre lo stesso incubo. Ancora? È da settimane che va avanti, almeno questa volta qualcosa è cambiato. No, nulla. Come al solito stavo camminando tranquillamente, vivendo la mia vita quotidiana. Quando all'improvviso sento un senso di vuoto, davanti a me vedo l'oceano, una massa di azzurro che ad ogni momento si avvicina di più, finché non sento l'acqua gelida circondarmi completamente. E qui il vero incubo inizia. Mi sento oppresso. Sono un bravissimo nuotatore, ma nonostante io stessi nuotando verso la superficie, continuavo ad affondare, ad affondare e ad affondare. Inizia il panico. L'oppressione ora non è più una sensazione. Sento la pressione dell'acqua a schiacciarmi. La luce svanisce. E ormai solo l'oscurità riempie la mia vista. Ehi, Nick, non vorresti provare questa sensazione nella realtà? Che... che intendi dire? Beh, in fondo loro ti opprimono. Giusto, Nick? E tutto ricominciò da capo. Solo maledetto, non è così? Questo cerchio non c'è la minima speranza che venga spezzato. Ciao. Grazie a tutti.